e ciao a tutti amici sono franco versa aria di feste ci stiamo avvicinando sempre di più a natale e siccome il vostro amico franco ha pensato che avrete bisogno di titolazioni andremo a costruire questa sigla che mi sono inventato interamente costruita in fusion tutta la parte grafica che adesso andremo a vedere e vi guiderò passo passo pur spiegando cosa fa il singolo nodo quindi andiamo subito in fusion ma prima sul media pool clicchiamo tasto destro e creiamo new fusion composition lasciate pure tutto il valore così perché può essere allungato un secondo tempo questa è la fusion composition e la portiamo in timeline ma guardiamo un attimino al volo la programmazione già fatta eccolo qua come vedete non sono tantissimi nodi da qua si può arricchire e anche semplificare ora vi guiderò alla creazione di tutto questo bel workflow e del singolo nodo quindi spostiamoci sulla fusion composition che avete appena creato in timeline entriamo in fusion per trovare una bella tavola bianca con semplicemente il media out ecco questo lavoro è fatto a vari livelli diciamo così è un prossimo tutorial di andremo inserire anche in piani 3d per avere un animazione che si muove un po tipo pop up su livelli diversi quindi dare anche un che di 3d all'animazione intanto incominciamo con questa cosa un po più semplificata ma nella quale potrete inserire comunque molti elementi animati andiamo a crearci il cielo e cielo lo facciamo con un nodo background eccolo qui lo trasciniamo qui background 1 sarà il vostro nodo che colleghiamo all'uscita in questa maniera e abbiamo un bel nero ora dite però proprio i dati in maniera che riuscirete ad ottenere la stessa mia cosa ma non preoccupatevi cambiate tutto quello che desiderate per ottenere ciò che voi volete quindi non è necessario proprio copiare quello che faccio io quindi per creare una sfumatura vado a cambiare il tipo su inspector quindi se non l'avete acceso accendetelo e su color andiamo a inserire gradiente come vedete abbiamo una sfumatura ma che andiamo a porre verticalmente per farlo spostiamo lo start in centro questo punto qui che andrà a 0.5 lo facciamo appunto numericamente che molto più veloce y non andiamo alzare qua in alto e per farlo ci basta inserire uno perché uno è la parte alta dello schermo bene facciamo lo stesso con questo puntino e lo portiamo in centro quindi avete capito che 0 5 centro ed eccolo qua e poi lo portiamo in fondo in fondo il numero 0 perché la linea parte da 0 e finisce 1 e qui abbiamo un fondo via con in bianco e nero ma ora andiamo a inserirci altri colori per crearci questa sfumatura knife poi appunto andrete a migliorarla come come colori partiamo proprio da questo nero e per indicarvi i colori faccio così cliccate qui vi si apre il pannello e su html andremo a inserire il codice esadecimale quindi cancellate tutto lasciate solo il cancelletto inserite 1 f 7 1 a 2 che corrisponde a questo celeste premete ok spostate un pochino lateralmente così in maniera da avere la sfumatura che parte un po più giù andiamo a creare un altro punto come vedete mi sposto all'interno del colore premo tasto sinistro del mouse viene un altro triangolo lo premiamo per rientriamo nel colore lasciamo sempre il cancelletto e inseriamo 5 e 7 9 b 6 un po noioso ma poi sceglierete anche voi i colori ovviamente ok ci spostiamo un altro pochino facciamo un altro colore clicchiamo sul triangolo clicchiamo qui e andiamo a inserire questa volta 7 8 6 e ac ok come vedete un colore un po più violaceo ci spostiamo nuovamente un po più in qua questa volta questi punti andranno più attaccati quindi lo facciamo qua così clicchiamo selezioniamo e su questo andiamo a inserire 7 e 4 e 8 0 ecco qua questo violaceo poi andiamo inserire un altro in mezzo a questi due clicchiamo e qui andremo a inserire 6 a 5 c 9 6 e in ultima sul puntino bianco clicchiamo e andremo a inserire 3 7 2 f 5 0 ed ecco qua la nostra sfumatura che come vedete parte dal viola passa per dei rosa celesti e finisce con i celesti poi potrete spalmarla come desiderate è messa così perché adesso qua davanti andremo a costruire altre cose per cui alcune tinte risulteranno appena visibili questo qua è il nostro fondo che non toccheremo più bene a questo fondo adesso andiamo a crearci una montagna quindi la montagna la faremo utilizzando un fast noise guardate questo perché molto carino come tecnica perché se avete visto tirascinato da qua un fast noise premo 1 e andiamo a vedere la solita nuvoletta ma noi vogliamo una forma non da mossa e come facciamo a costruirla andiamo inserire linea andiamo a creare vedete una linea ora ruotiamo questa linea in verticale per avere la parte bianca sotto e la parte nera sopra quindi su start portiamo come prima in centro a 0 5 qua possiamo se lasciare 0 5 perché può partire pure da qua invece come fine sempre centro x 0 5 invece su y mettiamo meno 0,00 659 e vedete che abbiamo una sfumatura da qua di nero fino a qua dove abbiamo creato quest'onda quest'onda ora è sfumata come fa essere una collina nitida lo farà il nodo background che andremo collegare qua sotto quindi andiamo a prendere un nodo background e vediamo una cosa che forse non abbiamo mai visto inseriamo questo fast noise come maschera e poi andiamo a visualizzare ecco qua vediamo nero andiamo a inserire per il momento un bianco eccolo qua la linearità della collina che abbiamo appena creato col fast noise che è blur è creata sul background andando su setting e inserendo qua su channel un canale il rosso però ora qua sotto facciamo un clipping clippando e rendendo rigida questa sfumatura per farlo se spostiamo questo vedete cosa succede andiamo a capire qua e qui spostata di qua possiamo clippare vedete che adesso sta diventando sempre più nitida perché abbiamo abbiamo clippato la parte dei bianchi ecco attenzione a non invertirli sennò si invertirà la forma e di qua abbiamo clippato la parte dei neri creando appunto questa collinetta qui adesso sempre sul background per creare una sfumatura su color andiamo a inserire qui invece che solid color andiamo inserire un gradient e poniamo allo start a 0,43 quindi qua e come altezza a 0,296 e come fine andiamo inserire 0.44 34 e come y andiamo inserire 0.0 408 e vedete che abbiamo creato questa sfumatura che adesso andremo a cambiare qui questo colore lo andremo a porre come bianco ok e invece questo colore alla fine clicchiamo qui inserite questo colore lasciando sempre il cancelletto 3 e 6 b ff e abbiamo questa sfumatura di celeste vedete che adesso abbiamo qui dall'alto quindi bianco che farà questa parte della neve mentre celeste è la sfumatura sulla neve questa montagnola sarà quella che cadrà dietro agli alberi ve lo faccio un attimo vedere andando ad attivare le clip e saltando sulla programmazione già fatta ecco qua vedete questa è la montagnola qua dietro per cui se ne vedrà solo una piccola parte ritorniamo alla clip qui che spengo le clip ecco quindi vedremo solo la parte qua in alto uniamola al nostro cielo quindi da qui background andiamo a unirlo e voilà e come vedete questa linea morbida che sembra delle montagne ovviamente regolando il fast noise e i clip sul background possiamo ottenere il tipo di collina che vogliamo più o meno con questi avvallamenti insomma questo regolando sia il colore che ovviamente l'angolo e lo scale eccetera va bene che adesso non regolo perché l'abbiamo appena impostato la parte simpatica di sono gli alberi che mi sono inventato perché ho creato un triangolo e l'ho duplicato partiremo dalla base quello faccio un attimo rivedere come vedete l'albero sono triangoli con delle sfumature che ho fatto semplicemente un triangolo e l'ho moltiplicato fatto un albero moltiplicheremo per ottenere gli altri bene andiamo a cominciare la nostra programmazione proprio dal triangolo per fare il triangolo ho usato le forme shape quindi andremo a inserire un nodo and go premiamo shift barra spaziatrice e scrivete proprio s che sta per shape eccolo qua che vi compare già alla seconda lettera perché l'unica cosa degli chef che si chiama così e andiamo a inserirla e non vedrete nulla perché questi nodi vanno renderizzati quindi per poter essere visualizzato ha bisogno del suo s render con un nodo selezionato andiamo quindi a premere shift barra spaziatrice e scriviamo s render possiamo portarlo sotto se volete aver tutto più pulito cliccate tasto destro e attivate arrange tool to grid in maniera che tutto sia agganciato alla griglia e sia più ordinato ora se premiamo uno sulle se render verrà visualizzato cosa quello che andremo a fare su and go quindi andiamo a inserire tre e come vedete appare subito questo triangolo che però è ruotato con la punta a destra quindi su angolo possiamo mettere 90 e la punta si orienterà verso l'alto poi andiamo a cambiare l'offset qui in y che mettiamo meno 0.104 questo serve per abbassarlo e fare la parte di base già lo andiamo un po posizionare qui e andiamo a cambiare come altezza e larghezza se vogliamo unirli assieme perché manterremo questa forma clicchiamo su altezza tasto destro facciamo expression e uniamo questo più tasto sinistro a weed questo farà sì che possiamo regolare assieme questi due valori muovendo solo su id ok non cambia niente se fate guida su edo squid perché diciamo che rapporto uguale ora andiamo qui dentro e andiamo a scrivere 0.236 ecco qua la dimensione del triangolo che ci serve abbiamo anche un colore del triangolo quindi andiamo su style e colore clicchiamo qui e su htlm andiamo a mettere un verde che è 0 0 2 a 0 0 premendo invio ecco un verde scuro andremo dopo il nodo essere render quindi clicchiamo essere render shift barra spezzatrice a inserire un altro background non serve questo il il render deve entrare sulla maschera quindi se guardiamo avremo nero stiamo andando a sostituire il colore quindi volendo potevate anche non inserirlo andiamo a fare una sfumatura in verticale quindi type vertical questo perché inizialmente gli alberi di leo fatti verdi ma poi ho pensato che una sfumatura sul triangolo faceva vedere gli stacchi tra le copie di triangoli dando più forma all'albero quindi sulla parte alta questo colore clicchiamo e sempre su htlm così facciamo prima andiamo inserire 0 0 50 34 e questo verde scuro e sotto stessa cosa qui andiamo a scrivere invece 162 e 17 ok e come vedete c'è una leggera sfumatura che poi si noterà di più sulla copia infatti adesso andiamo a copiare tutto questo cliccando shift barra spezzatrice duplicate scegliete sempre questo qui con questa più ad sul duplicate andiamo a impostare come numero di copie 5 come centro lasciamo pure 0 5 e invece come y perché vogliamo che i triangoli vengano su 0 punto 5 3 8 eccolo qua vedete che ho alzato e si possono vedere ecco qua tutta una serie di triangoli uno sopra l'altro ovviamente un albero non è fatto così perché i triangoli vanno pian piano diventando sempre più piccoli infatti andiamo a mettere come size 0 punto 75 e adesso possiamo vedere che il triangolo diventa sempre più piccolo dando una forma di un albero bene questo sarà il nostro albero semplice stilizzato di base e ora dovremo copiarlo più volte però prima di copiarlo andiamo a inserire un trasform che ci permette anche di posizionare e rimpicciolire questa albero quindi spostiamo un po proprio su clicchiamo sul duplicate e clicchiamo su un trasform sul trasform andiamo a inserire il centro come 0.5 4 0 8 5 9 ricordate di prendere 1 per vedere e su y 0 punto 3 5 8 0 6 3 ecco come avete visto l'abbiamo portato verso il basso bene eccoci qua ora clicco qui e clicco su fit per avere tutto il quadro ora quest'albero andiamo a duplicarlo tante volte quindi se volete alzare ancora facciamo tutta una linea verticale cliccando sul trasforma shift per la spaziatrice e inseriamo un secondo dupliche sempre questo mi raccomando questo qui ora non andrà a copiare quei triangoli ma l'intero albero quindi su questo secondo dupliche andiamo copie ne inseriamo addirittura cento poi qui vedete voi ovviamente visualizziamo questo dupliche premendo 1 così vedremo cosa stiamo combinando su size lasciamo pure uno perché ora andiamo a modificare tutto sul gitter perché vi ricordo che il gitter vi permette di avere delle variabili così possiamo fare degli alberi più piccoli più grandi eccetera come center in x mettiamo 2.06 3 come size ecco vedete che abbiamo fatto una linea di alberi ora li facciamo più grandi più piccoli andando sul size e scrivendo 0.382 invio e ecco qua ora vedete tutto sovrapposti alberi più piccoli e più grandi ora facciamo anche un'altra cosa essendo che gli alberi come vedete sono tutti dello stesso colore fan confusione andiamo sul game sempre sotto il gitter cambiando l'rgb avremo una variazione di colore da albero ad albero infatti andiamo inserire sul rosso 1 sul verde andiamo inserire 0.433 e sul blu vedete ecco che già gli alberi cambiano e sul blu andiamo inserire 0.709 e così otterremo questa variazione di verdi e blu sugli alberi come vedete abbiamo tutta questa confusione ora con un altro transform andremo a rimpicciolire riposizionare gli alberi ma non preoccupatevi perché poi una seconda collina taglierà tutto ciò che sta sotto è brutto allora intanto andiamo a inserire l'altro transform quindi clicchiamo qui inseriamo un altro transform e su questo andiamo a inserire 0 5 lo lasciamo così e su y andiamo a scrivere invece 0.351 quello che cambia molto invece size perché andiamo un po a risistemare e scriviamo 1.26 invio eccolo qua sono cose alle volte fini che poi nell'insieme delle animazioni potremo notare adesso finita questa programmazione degli alberi andiamo unirli finalmente al nostro sfondo con la collinetta quindi da qua li colleghiamo qui e come vedete abbiamo la collina qui che finisce dietro e questo che sarà un layer davanti alla nostra programmazione finisce davanti come detto ora vedete che gli alberi finiscono tutti qui ora con l'altra collina andremo a tagliarli per per avere appunto l'effetto della neve anche frontalmente allora si potrebbe semplicemente copiare questa collina qui e spostarla di valore possiamo anche farlo e poi vi do i valori per ogni nodo quindi copiate così fate un drag and drop quando li avete evidenziati fatti contro ci vi spostate in un'area vuota premete in maniera da deselezionare tutto e fate contro di le verranno copiati vedete adesso con il nodo merge shift e quando vedete che diventa il segmento celeste giallo rilasciate vedete che abbiamo sommato la collina davanti ora andiamo a variarne i valori quindi fast noise 11 andiamo a cliccarlo eccolo qua lo vediamo andiamo a vedere i suoi valori e diciamo che di questo qui non non tocchiamo niente va bene così andiamo sul background sul background cambiamo i colori quindi sul punto bianco clicchiamo qui e andiamo a inserire invece 8 c ff e 8 questo perché questa collina avrà una sfumatura di luce diversa quindi clicchiamo sul blu qui e qui invece mettiamo un bianco quindi basta cliccare e spostare su un punto bianco così vedete questa avrà un celeste sulla parte alta che adesso non si vede ma quando è netta si vedrà e un bianco sulla parte bassa della neve poi premiamo se premiamo 1 eccola qua la vedete premiamo un attimo l'uscita qui premiamo due così vediamo l'insieme e torniamo sul background se andiamo sul setting allora lo start qui del linear lo spostiamo però lo mettiamo a 0.331913 quindi si sposterà lateralmente y lo mettiamo a 0.632188 e quindi lo portiamo molto più sulla sfumatura è più morbida su and mettiamo a 0.542787 eccolo qua scusate tutti questi numeri ma se volete uguale l'animazione indispensabile e su y mettiamo 0.14558 facciamo così ecco vedete che il celeste è tutto da questa parte andiamo invece sul seti dove andiamo a spostare va bene channel red per tagliare come prima la sfumatura del fast noise ma spostiamo il punto dove clippa quindi sulla parte lo andiamo a scrivere 0.511 e vedete come la collinetta scende effettivamente e su y andiamo a scrivere 0.522 eccola qua che l'abbiamo ammorbidita vedete ora abbiamo la collina frontale gli alberi e la collina in fondo ecco qua diciamo che abbiamo creato tre quarti della nostra animazione qui possiamo mettere una bella scritta come vedete le sfumature del background potete regolarvele come volete voi andando a trascinare questo punto qui la fine inizio più su vedete più giù potete fare il cielo più celeste potete spostare la fumatura rosa potete far entrare anche le altre violace come desiderate voi a me piaceva così questa diciamo punto eventualmente che questo punto qui molto probabilmente può essere sfumato ecco qua vedete se volete di più più sul chiaro come desiderate voi spostandolo ecco lasciamolo così perché tanto poi qui ci sarà anche un soft che andrà a mordidire tutta l'animazione adesso andiamo a creare se volete una scritta se vi può servire quindi semplicemente un testo andiamo a inserire in questo punto e qui scrivete quello che desiderate le mie vacanze e buone feste io scrivo buone feste perché è generico e anche qua come fonte eccetera scegliete quello che desiderate voi che vi piace di più ecco scritto quello come volete e lo andate anche a porre dove desiderate anche qua usando gli scegli potete aggiungere ombre tutto quello che volete proviamo ad esempio aggiungere un'ombra e la faccio un po meno pacca eccolo qua e se volete anche un bordino se volete aggiungere un bordino ecco così come 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 vi piace di più e lo posizionate comunque la scritta è relativa perché poi anche tutte queste cose possono essere animate pensate gli alberi che belli se ad esempio vengono sui triangoli pop e nascono gli alberi la cosa che volevo farvi vedere perché poi appunto la potete personalizzare come desiderate voi è come creare la neve la neve la neve la facciamo con i particellari quindi andiamo a prendere punti emitter andiamo a prendere un p render è già così possiamo visualizzare premendo uno che i puntini e adesso per pianino andiamo a costruire questa quest'area dove nevicherà quindi andiamo sull'emitter come numero di particelle number sul meter mettiamo molto basso quindi mettiamo 3.9 come numero di variazione mettiamo e 0.0 291 poi anche se cambiate un po non succede niente il life span è importante solo a seconda di quanto lunga sarà la vostra animazione perché questa è la vita delle particelle per cui se voi andate sull'edit e tirate 30 secondi di clip il lifespan deve essere aumentato perché altrimenti vedrete la neve che sparisce nel nulla infatti se questo numero troppo corto la neve sparirà perché le particelle muoiono ecco mi raccomando quindi sapete io lo lascio a 100 ma adesso poi andiamo a vederlo assieme invece andiamo ad aprire la velocità e come velocità inseriamo 0.067 anche qua se volete la neve più veloce o più lenta che scenda regolate ovviamente più piccole valori e più lenta sarà e do anche una leggera variazione che vado a scrivere 0.031 questo numero è per far sì che le particelle non si muovono tutte uguali è importante l'angolo perché se ora vado a premere play vedrete semplicemente che le vostre particelle si spostano verso destra vedete quindi invece andiamo come angolo a scrivere meno 90 così le particelle ecco come vedete già scenderanno in basso una cosa molto importante è invece su style andiamo a inserire invece i punti andiamo a inserire blob eccolo qua e andiamo a regolare la regione per creare un rettangolo perché se faccio una linea dove scendere le particelle la neve all'inizio non ci sarà scendere dopo invece se faccio un rettangolo la neve sarà già presente quindi su regione andiamo a scrivere rettangolo e adesso un po la difficoltà è di allargare questo rettangolo per poi in uscita vederlo su tutta la nostra schermata quindi se volete già qua uniamo un render così vediamo cosa succede quindi clicchiamo su pi render uniamo render perché questo renderizza l'emettitore però dobbiamo renderizzarlo ancora per avere un 2d in uscita e il render lo uniamo quindi qui ecco qua che vediamo questa massa di puntini quindi torniamo sull'emettitore e regoliamo questo rettangolo vedete lo allargiamo va allargato molto quindi proviamo a inserire potete inserire un numero alto come ad esempio 5 e poi potete tornare indietro per vedere che le particelle siano tutte in orizzontale dobbiamo fare la stessa cosa in verticale quindi su high alziamo fino a che vediamo che le particelle possono coprire lo schermo anche qua possiamo scrivere un numero più alto 5 e poi abbassare finché vediamo che le particelle partono da fuori schermo e finiscono fuori schermo abbiamo ancora dei controlli su style delle dimensioni delle particelle qui possiamo farle fisse facendole piccoline o se volete qua una volta impostato il fiocchetto io sono a 0,04 come vedete copiate da qui abbiamo sempre un size variance come vedete che ci fa creare dei puntini più piccoli e dei punti più grandi sto parlando della neve oppure possiamo partendo da questa dimensione come inizio e fine del fiocco di neve durante la sua vita e ad esempio andare a ingrandirlo nella parte centrale e poi per impicciolirlo verso la fine alla fine potremo anche buttarlo giù in maniera che vada a diventare più piccolo in questa maniera i puntini man mano che scenderanno prenderanno dimensioni diverse poi come vedete ora la neve scende giù dritta così quindi possiamo creare un minimo di turbolenza questa sarà la parte della programmazione più pesante possiamo inserire anche un nodo di turbolenza per andare a movimentare un po la neve premiamo shift barra spaziatrice cercate p turbolenze tutto ciò che riguarda le particelle incomincia con la lettera p clicchiamo lo inseriamo ovviamente dopo e come indicazioni di linea io ho inserito come random ho inserito 187 già perché ci sia una certa confusione casuale e poi invece come forza x ho inserito 0.37 come y ho inserito 0.252 e come z ho inserito 0.488 e come vedete i puntini si sono spostati andiamo un attimino a vedere cosa succede sulla edit page ed ecco la neve come viene non guardate gli alberi che per sbaglio ho toccato la duplicazione e ho creato anche un'animazione sugli alberi ma vedete che la neve scende abbastanza fiocchettini regolari tutto ciò che è inerente le particelle le possiamo trovare nella f library sotto tool particle e come vedete sono tutte queste voci che come vi dicevo sono con la p iniziale qui troviamo delle forze che possiamo applicare ad esempio p directional force e potremo simulare ad esempio un vento quindi ad esempio qui dopo la p turbulence ho inserito la directional force e possiamo regolare da direction e la direzione del vento con random possiamo dare una casualità e abbiamo anche una direzione nell'asse z aggiungiamo un tocco di magia clicchiamo sull'ultimo merge shift barra spaziatrice e cerchiamo soft glow con questo diamo un alone non così tanto magari aumentiamo 3 soldi abbassiamo il gain e regoliamo il low size per creare questa luce molto morbida come vedete che ci va anche a sfumare ulteriormente il cielo quindi attenzione a non farlo eccessivo ma magari appena appena come vedete creerà questo questo bagliore che darà quel tocco di magia bene la prossima volta vedremo come inserire ogni piano che abbiamo costruito qui in un image plan in questa maniera ogni singolo livello come vedete diventerà un piano all'interno dello spazio 3d e andremo a costruire questa animazione in tridimensionale dove potremo spostarci anche con la telecamera quindi io vi ringrazio di avermi seguito mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre avvisati quando posto nuovi video ciao e alla prossima ciao 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 ciao